Il ministro Passera boccia il magliocco non inserendolo tra gli scali di interesse nazionale, ma il ministro Gnudi lo inserisce come prioritario nel piano del turismo italiano. Su questa ennesima contraddizione tutta l'italiana prende posizione il presidente di Federalberghi, che è anche presidente della sua QSPA, società che gestisce l'aeroporto di Comiso, Rosario di Bennardo. Se da un lato, sottolinea di Bennardo, Passera ha escluso il magliocco dal piano nazionale, dall'altro il collega di governo, ministro per il turismo, Piero Gnudi, nel piano di intervento denominato Turismo Italia 2020 Leadership Lavoro Sud, lo fa diventare una delle priorità da attivare a regime nel giro di 24 mesi. Nel piano in questione, infatti, in uno dei punti principali, scritto a chi le lettere è proprio che aprire l'aeroporto di Comiso tra Ragusa e Siracusa per offrire una base ai voli low cost e favorire un progetto più complessivo di sviluppo turistico dell'area, che favorisca in generale il territorio e dunque anche l'intero sistema aeroportuale siciliano. Siamo dunque estremamente stimolati, dice Di Bennardo, dal fatto che il ministro per il turismo pensi a Comiso come una delle infrastrutture su cui potranno essere convogliati i flussi dei visitatori nei prossimi anni. Per quanto riguarda la Sicilia orientale, non comprendiamo perché il ministro Passera invece, aggiunge Di Bennardo, abbia deciso di fare la scelta completamente opposta. C'è qualcosa che non torna.